Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video, purtroppo ho dovuto registrare un video già pre-registrato senza voce né nulla perché appunto ho perso il terzo episodio di questa puntata io lo avevo registrato, infatti l'ho preso diciamo da un'altra persona giusto per farvi vedere delle cose della stanza appunto di Vittoria quello che è successo, comunque ve lo racconterò qui perché dato che questo ragazzo ha fatto scelte diverse rispetto a me comunque vi spiegherò un pochettino che cosa è successo allora praticamente sono entrata nella stanza di Vittoria e abbiamo un po' visto che lei comunque è un po' una riccona e soprattutto la ragazza, in particolare Rachel, Amber, che era scomparsa probabilmente non aveva un buon rapporto con Vittoria perché Vittoria la odia a morte a questa ragazza, anche se lei comunque è una bulla quindi ci sta un pochettino che odi tutti comunque in ogni caso io poi sono uscita dall'appartamento di Vittoria sono andata a consegnare dei file a quella ragazza che si sentiva male perché Vittoria aveva messo il naso fra questa amicizia, fra queste due ragazze e noi abbiamo risolto il caso ovviamente io non ho in ogni caso visto il tester di gravidanza di uno delle due perché una delle due è stata lasciata, era una cheerleader ed è stata lasciata dal ragazzo e praticamente lei a quanto pare era incinta comunque io non ho fatto la scelta che vedrete nel filmato ma appunto non l'ho proprio toccato nel nulla ma ho letto solamente un foglio ovviamente le ho chiesto come stava, l'ho sostenuta quindi non ho fatto la scelta di essere una ficcanaso come in questo caso vedrete poi avanti e poi sono uscita dai dormitori quindi poi abbiamo incontrato il nostro migliore amico e ragazzi c'era una scena divertentissima mannaggia la miseria che ho perso il file del video perché veramente c'era da farsi le risate praticamente ho un po' perculato il nostro migliore amico perché stavo vedendo che ci stava provando con noi e a un certo punto dato che comunque avevamo scelto la decisione di colpevolizzare Nathan e dire tutto al preside della pistola praticamente Nathan ci voleva uccidere e praticamente il nostro migliore amico ha fatto a cazzotti con Nathan quindi in questo caso ci ha salvato il culo però a un certo punto arriva una ragazza la ragazza dai capelli azzurri che poi scopriremo più avanti essere la nostra migliore amica di infanzia ma questo lo scopriremo nel quarto episodio che vi lascio dato che il terzo si è andato un po' a perdere e quindi praticamente vi metterò direttamente il 3 dove andremo a vedere la casa appunto di Coloe la nostra migliore amica in ogni caso mi dispiace tantissimo che sia andato a perdere proprio questo video perché era molto importante cioè oddio non c'era moltissime cose però c'era più la parte dell'esplorazione che so che a voi piace tantissimo mi dispiace tantissimo ho cercato di riassumervi un po' tutto quello che ho fatto in quell'episodio però state tranquilli ve lo spiegato mi dispiace per la caduta mi dispiace tantissimo